Per alimentare percorsi di crescita comune, nei locali dell'Università della Calabria a Cosenza, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Unical hanno sottoscritto una convenzione quadro per stimolare e favorire la creazione di posti di lavoro e offrire risposte ai bisogni delle aziende. Firmato dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Andrea Costinelli e dalla Direttrice la Professoressa Francesca Guerrieri, l'accordo di collaborazione che avrà una durata di 5 anni. Attraverso questa convenzione, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio potrà così usufruire di competenze, mezzi e professionalità esistenti presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Unical. Per lo svolgimento di attività di formazione tecnica e di ricerca scientifica finalizzata ai settori di interesse dell'ente portuale. Dal canto suo, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Università della Calabria avrà l'uso delle competenze delle strutture e dei professionisti dell'Autorità di Sistema Portuale finalizzate all'attività di ricerca e alla formazione specialistica. All'interno di questo percorso di collaborazione organizzato negli ambiti della ricerca, della gestione e della formazione, entrambi promuoveranno attività progettuali nell'ambito dei programmi di sviluppo finanziati dai bandi nazionali e da quelli internazionali. Il mondo della portualità calabrese e quello accademico si mettono così insieme per gettare le basi intorno a nuove prospettive professionali rivolte ai giovani calabresi che potranno immaginare e costruire il proprio futuro senza dover più emigrare fuori dalla propria regione.